L'esperienza a Siena Sono venuto qua a giocarmi tutte le mie carte, pronto a dare il cuore e l'anima per la squadra e poi vediamo come va Un tempo e mezzo in campo, tanta fatica perché si vede insomma, il primo tempo bene, la gamba rispondeva, nel secondo tempo un po' meno, è chiaro Avete lavorato in mattinata, sono i primi giorni in cui si lavora, si incamera fiato e energie per il campionato Sì sicuramente, avevamo le gambe abbastanza pesanti, nel secondo tempo ho avuto qualche acciacco, però comunque niente di che cose normali per i primi giorni di ritiro Comunque abbiamo fatto un buon primo tempo e un buon secondo tempo Ecco sei un difensore prestante fisicamente ma anche bravo con i piedi, abbiamo visto oggi dei fraseggi comunque con i tuoi compagni di riparto Quindi riesci insomma anche a far ripartire la squadra dalla difesa? Sì, non ho problemi, gioco tanto sull'anticipo e ripartenza, comunque è un gioco a due tocchi, non devo fare tante altre cose, non devo lanciare, non devo mandare in porta nessuno Devo fare solo il mio compito che è quello di prendere palla e giocarla subito in avanti Di testa come te la cavi? Di testa me la sono sempre cavata abbastanza bene, adesso devo vedere questo campionato com'è perché per me è una novità L'anno scorso a Melfi due gol che ricordano, insomma mi sembrava uno di testa anche contro due di testa, due nella stessa partita poi mi sembra Sì, ho fatto l'esordio in Lega Pro con una doppietta di testa l'anno scorso, quindi è stato un buonissimo esordio Sei di giovane, che sei 21enne se non vado errato, quindi è tutta una carriera davanti a te, quindi una lunga strada da percorrere Chiaro l'importante è sempre mantenersi umili, lavorare, lavorare, lavorare Ma secondo Cason dove devi migliorare? Sicuramente l'umiltà è la prima cosa perché senza quella non va da nessuna parte E nulla, sono venuto qua a migliorarmi come tutti gli altri anni, non sono arrivato da nessuna parte Perché è il primo anno che faccio una Serie B e comunque punto a migliorarmi sicuramente con i piedi, tecnicamente e pure fisicamente Sul piano invece psicologico, della mentalità, l'approccio alla partita, pur essendo giovanissimo Già hai raggiunto un certo equilibrio, una certa maturità? Sì, non ho mai avuto problemi sotto questo punto di vista, comunque anche l'anno scorso ho giocato su grandi stadi, grandi campi E non ho mai avuto problemi comunque C'è un calciatore a cui ti ispiri? Ma sinceramente no, comunque mi piace Bonuzzi ma chi è che non piace? Quindi mi piace molto vederlo giocare Ecco, della Ternana vi ha parlato qualcuno, hai fatto una ricerca, che so, ex compagni, ex amici Quando hai scelto di venire a Terni ti ha consigliato? Chi hai sentito per darti delle informazioni su Terni e la Ternana? No, ho parlato solo con il procuratore e con l'Atalanta, nessuno mi ha detto niente Quindi è tutto molto una novità, una cosa nuova Senti, forse nel reparto difensivo da Ternana è quello, a mio modo di vedere, quello un po' più completo Soprattutto nei difensori centrali C'è Cisete, c'è Meccariello, c'è Masi, c'è lo stesso Valiant Insomma, è una bella lotta, una bella concorrenza Per un giovane come te, voglio dire, c'è solo da capire i segreti del ruolo stesso No, certo, ma sicuramente è una cosa positiva questa cosa della concorrenza Comunque sono tutti buoni i giocatori E ogni allenamento devi metterti alla prova, no? E quindi comunque puoi anche guardare loro come giocano Hanno sicuramente più esperienza di me, quindi vedrò, mi baserò sicuramente su questa cosa qua Bocca all'uvo Preppi, grazie